un testo un testo c'è come sa eh? oh ok mi fa un po' di scultura di cosa si chiara? di cosa si chiara? a mezzo? non posso si chiara? ah no che io non posso che io non posso quelli grandi dietro quelli piccoli davanti le petic... le petic... ha eh le petic... lui première... finit... ah... attend ok ah voilà dire un ca Aspetta, 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 mentre giro su un po', non c'è problema. Ficcati dentro Stefano, mettiti in mezzo. 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 Ficcati dentro Stefano.